15 aprile a Firenze Si scrive scimamendo, si legge amore per i colori bianco-verdi e il modo del tutto singolare con cui i tifosi del Monopoli Calcio hanno deciso di sostenere la loro squadra in vista della sfida con la Correggese di domani a Firenze che decreterà la vincitrice della Coppa Italia di Serie D Sono tanti gli appassionati che in questi giorni hanno condiviso il proprio video di supporto alla squadra con l'hashtag IoCiCredo Tutti o quasi i video pubblicati sono stati poi raccolti in un unico grande spot ai bianco-verdi che da un po' di tempo impazza sui social Banditi gli atteggiamenti posati ed eleganti, spazio invece al supporto più scomposto e rigorosamente divertente Un'incitazione di pancia che sta riuscendo comunque nell'impresa di mobilitare la cittadinanza a seguire il Monopoli nella trasferta toscana contro l'altra finalista Un tifo che per una volta non è violento né offensivo Un esempio concreto di come sostenere la propria squadra senza danneggiare nessuno Un'incitazione di 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 un'incitazione Grazie a tutti.